Silenzio, silenzio totale, parlano solo i tifosi. Ieri i messaggi per il compleanno della Samb, oggi quello della vecchia onda, una puntura di spillo al club rosso-blu e alle istituzioni. In città tutti buoni a parlà, comune società fuori la verità. Questo lo striscione esposto a Riviera. Per il momento l'unica certezza è che senza svolte clamorose la Samb, sommersa dai debiti, affonderà per l'ennesima volta in 98 disgraziatissimi anni di storia. Il presidente Domenico Serafino viene dato a Milano, sempre in attesa che qualche istituto di credito accetti la sua richiesta di mutuo chirografario per 2 milioni di euro. L'amministrazione comunale, invece, al netto della commissione d'inchiesta per la vicenda stadio, ha provato a fare da tramite con il sudcoreano Kim Dae-jung e il contrasto tra il socio della Sudaires, la partecipata al 100% del club rosso-blu, sarebbe alla base dell'inizio dei guai della Samb. Sul piatto resta sempre l'ipotesi del fallimento pilotato, ma per ora non risultano istanze depositate. Come per il momento non sono state firmate manifestazioni di interesse per subentrare a Serafino, né dall'ex patron del Foggia, Roberto Felleka, che pure da tempo sui giornali e sui siti è uscito allo scoperto, né dal gruppo di imprenditori legati a Walter Novellino. Di concreto c'è che la squadra vuole giocare dopo domani alle 15 il recupero interno contro la Triestina, nonostante lo stato di agitazione proclamato lunedì scorso. Nelle casse della società, però, anche stavolta non ci sarebbero i soldi per pagare il pranzo ai giocatori. Né quello di mercoledì né quello di domenica per Samb Cesena, quando peraltro scadrà la missa in mora depositata dalla squadra il 22 marzo e dunque chi vorrà potrà svincolarsi. Si stanno organizzando i tifosi con una colletta per una Samb sempre più abbandonata al suo destino.